Musica La piazza della moda e del benessere di Confartigianato è ritornata ad Alba nell'ambito della Fiera Internazionale del Tartufo con le sue proposte d'eccellenza e la sua ottima verba comunicativa. Nella piazzetta Falcone sabato 27 ottobre si è tenuta l'inaugurazione ufficiale alla presenza di autorità, imprenditori e rappresentanti del mondo economico e sociale. Un ampio padiglione allestito ad Agorà dell'artigianato animato dall'impresa eccellenti dei settori moda e benessere. L'iniziativa che rientra nel progetto promozionale degli anni tematici avviato dall'associazione fin dal 2011 è sostenuta da Camera di Commercio e Fondazione Cassi del Risparmio di Cuneo. Le 10 aziende artigiane presenti nell'area dedicata fino a domenica 11 novembre offriranno ai visitatori durante ogni weekend consigli e suggestioni riguardanti abiti, accessori e trattamenti estetici. Inoltre non mancheranno nella pagoda centrale della piazza workshop, esibizioni di trucco e acconciatura, mini sfilate. Inoltre nel corso dell'inaugurazione per dare particolare visibilità ai settori moda e benessere che insieme contribuiscono alla valorizzazione globale della persona è stata illustrata al pubblico l'elegante guida catalogo sul comparto e i suoi imprenditori. Iniziativa editoriale di Confartigianato Imprese Cuneo che prosegue nel solco degli anni tematici il progetto avviato dall'associazione fin dal 2011 per promuovere i settori dell'artigianato. Anche quest'anno Confartigianato è presente in collaborazione con la Fiera del Tartufo e ringrazio la Presidente Allena per la collaborazione che stiamo portando avanti da un po' di anni. Una collaborazione che vuole evidenziare quelle che sono le caratteristiche delle nostre aziende artigiane aziende che producono prodotti di qualità e che stanno guardando anche all'export. Mai come in una Fiera del Tartufo che è completamente intrisa di visitatori da ogni parte del mondo è importante anche qui fare vedere il nostro artigianato di qualità. Quest'anno l'anno della moda e del benessere e quindi anche qua tantissimi colleghi che possono essere presenti sulla fiera e che potranno far vedere quelli che sono i loro capi e le loro attività a tutti coloro che parteciperanno alla Fiera del Tartufo in questi giorni. Quest'anno la possibilità di ospitare la settimana delle PMI europee in Italia ci è stata concessa come Confartigianato Cuneo che insieme al Sistema Nazionale vedrà il 16 novembre al Castello di Grinzane la presentazione di quelle che sono le tematiche legate alle piccole e medie imprese. Presenteremo il nuovo logo di Avme ma soprattutto presenteremo con poi le conclusioni di Tajani quelle che sono le 10 tesi che le PMI di tutta Europa presenteranno la prossima primavera a tutti i candidati alle politiche europee. Quindi anche qua un buon modo per poterci avvicinare all'export, all'internazionalizzazione guardando al di là di quelli che sono i nostri confini perché comunque tutte le volte che sono in Europa sono invidiato per i nostri prodotti made in Cuneo, made in Granda perché comunque hanno un tocco di qualità un tocco diverso rispetto a tutti gli altri. Sono otto anni che noi tutti gli anni valorizziamo un comparto artigianale quindi siamo partiti dalla pietra per arrivare al benessere perché è giusto che il benessere sia valorizzato quindi tutti gli artigiani che creano qualcosa per il benessere un vestito, i profumi, un massaggio, i parrucchieri sono artigiani, vanno valorizzati e ringrazio il Comune di Alba per aver messo a disposizione come tutti gli anni questa bella piazza che sarà sicuramente intitolata piazza dell'artigianato perché l'artigiano conta, l'artigiano è quello che fa l'Italia bella com'è. Senatore, oggi grande festa qui nella piazza dell'artigianato ma la festa è la fiera internazionale del tartufo di Alba che guarda lontano come guardano lontano le imprese artigiane che oggi sono qua a dimostrare la loro capacità e la loro voglia di fare sviluppo. Sì, l'impresa artigiana è il cuore pulsante del nostro paese sono milioni di piccoli imprenditori che lavorano e che rischiano ogni giorno sulla propria pelle l'azione del governo è proprio questa noi vogliamo andare in difesa di questi produttori dare una mano, sostenere il made in Italy ma sostenere nello stesso tempo il valore della loro produzione infatti già nella prossima legge di bilancio ci sarà comunque una riduzione delle tasse con l'applicazione della flat tax in primis e poi dall'altra parte sulla difesa delle produzioni sta lavorando molto bene anche il Ministero delle Politiche Agricole per fare in modo di ritornare a quello che è il prodotto vero italiano nel mondo non soltanto il prodotto che in gran parte diventa contraffatto quando è in giro per il mondo perché manca la produzione italiana. Grande momento di visibilità per le imprese artigiane associate a Confartigianato Imprese Cuno con la piazza dell'artigianato qui ad Alba un momento di visibilità che guarda all'internazionalizzazione Sì, soprattutto bisogna essere sempre consapevoli e ricordarcelo bene che gli artigiani sono quelli che tengono in piedi l'Italia perché la nostra economia non è che la tengono le grandi industrie la tengono i piccoli e gli artigiani ne sono un esempio sono artigiani nel senso di ars, nel senso di eccellenza nel senso di genialità e quindi noi siamo molto orgogliosi che vengano associati al tartufo e che oggi possano essere qua con noi per celebrare questa fiera internazionale non dimenticandoci che però ai nostri artigiani non dobbiamo solo dare la pacca sulla spalla al riconoscimento ma dobbiamo anche dare meno leggi, meno burocrazia e soprattutto meno imposte. Direttore, oggi nella piazza dell'artigianato ad Alba è stata anche l'occasione per presentare il catalogo di Moda e Benessere un'altra grossa iniziativa editoriale di Confartigianato Imprese Cuneo. Sì, è l'artigianato che guarda il turismo e cerca di presentare a quello che è appunto il visitatore piuttosto che il cuneese una guida che racconta quello che è l'artigianato della Moda e Benessere presenta 24 aziende dove le abbiamo raccontate in quello che fanno nell'arte del loro mestiere e al termine abbiamo indicato tutte le aziende di questo comparto in modo che chi è curioso, chi sta cercando un'attività di abbigliamento piuttosto che un'estetica, un'acconciatura o una gioielleria che può attraverso la nostra guida trovare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Siamo molto orgogliosi anche quest'anno di continuare la nostra collaborazione con la Fiera Internazionale del Tartuffo Bianco d'Alba e vogliamo essere insieme all'ente fiera portabandiere dell'eccellenza di un territorio un territorio che racchiude artigianalità, arte, folclore, cultura. Ci piace definire questo padiglione come il padiglione delle eccellenze dell'arte del territorio della provincia di Cuneo moda e benessere in tutte le sue sfaccettature che si legano con la creatività di una città dell'UNESCO che è Alba e tutto il territorio del cuneese. Ecco, vorrei che lei raccontasse la favola che ci ha raccontato prima questo legame tra terra e luna con la fiera ma terra e luna anche con le donne che amano farsi coccolare da tutte queste suggestioni di moda e benessere che arrivano proprio qui dalla piazza dell'artigianato. È vero, quest'anno il tema della Fiera del Tartuffo è tra terra e luna La luna richiama la notte, richiama il sogno e immaginatevi una storia moderna una location da sogno, una donna che si lascia coccolare dalle sapienti mani di un artigiano del benessere si prepara per una serata indimenticabile con l'abito migliore col gioiello creato su misura per lei e assapora insieme a un buon bicchiere di barolo un piatto di tagliarinco al tartufo guardando la luna dalle torri di Alba penso che questa sia la storia moderna e il sogno di questa città nel quale Confartigianato Cuneo racchiude tutti gli elementi di una creatività, artigianalità ed eccellenza delle imprese che ne fanno parte. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!